Buonasera, ben trovati. Continua a salire, ve lo dico subito, la tensione sul tema dei migranti dopo che sono arrivati migliaia di persone nei giorni scorsi a Lampedusa. Ma oggi c'è stata una frase pronunciata dal Ministro degli Affari Regionali Calderoli che ha, diciamo così, innescato ulteriormente la polemica. Perché Calderoli, non è il primo, peraltro l'ha già insinuato Salvini, ha sostenuto che dietro questi arrivi potrebbe esserci una strategia, una regia addirittura. Ha parlato di invasione, di invasione pacifica naturalmente, ha specificato, ci mancherebbe altro visto che è gente che cerca di salvarsi la pelle. Ma ha parlato di invasione con l'arrivo di migliaia di persone, 127 mila solo nel 2023 appunto nel nostro paese. Questo come potete immaginare ha riaperto la discussione ulteriormente non soltanto in Italia ma anche a livello europeo. Perché queste dichiarazioni sono arrivate in maniera sincronica rispetto alle decisioni dei paesi europei proprio sulle migrazioni. L'Austria ha deciso di rafforzare i controlli al Brennero. La Francia lo stesso ha fatto a Menton, anche se sentirete nel telegiornale che il presidente francese Macron in realtà ha teso una mano all'Italia, ha detto il paese non va lasciato solo. Questo perché il nostro paese, l'Italia, è il primo punto di ingresso dei migranti in Europa, il che significa che passano dall'Italia ma molti di questi vengono poi nel nostro paese per spostarsi nei paesi dell'Europa centrale e settentrionale. Dunque è del tutto evidente che la questione va affrontata in maniera sistemica e globale, complessiva. Parleremo di questo dunque ma vedremo anche com'è la situazione, come sta evolvendo la situazione nello specifico a Lampedusa. Lentamente si sta svuotando l'hotspot ma restano ancora moltissimi bambini anche piuttosto piccoli all'interno del centro. Il governo però in queste ore è impegnato e lo vedremo anche su questioni economiche. In primis c'è la questione del salario minimo, oggi c'è stata l'Assemblea di Confindustria, ha parlato il Presidente Bonomi e ha sottolineato ancora una volta che Confindustria non è d'accordo con il solo intervento sul salario minimo. È importante, ha detto Bonomi, portare avanti una trattativa con le rappresentanze sociali. Ma in quella stessa Assemblea è intervenuto anche il Capo dello Stato Mattarella, è la prima volta che avviene con parole sentirete molto molto forti, ha parlato di capitalismo di rapina. L'altra questione economica di cui si discute è la questione del MES, oggi c'è stata la riunione dell'Eurogruppo e il Presidente dell'Eurogruppo ha spinto l'Italia a intervenire, a ratificare il MES, sottolineando il fatto che non si tratta di intervenire all'interno del dibattito parlamentare italiano, ma la questione riguarda non solo il nostro Paese ma tutti gli altri Paesi membri. Dunque è una questione che va affrontata e risolta con una certa celerità e questo, come potete immaginare, ha riaperto anche questo il dibattito politico, soprattutto lo scontro tra maggioranza e opposizioni. Poi per quanto riguarda le notizie all'estero sentiremo un'ambivalente dichiarazione del Presidente russo Putin e cercheremo di capire che cosa significa e se davvero si può parlare di un tentativo di riaprire la trattativa per una tregua della guerra in Ucraina. Mentre dall'altra parte, negli Stati Uniti, il Presidente americano Biden ha le prese con una protesta che non ha precedenti, quella dei lavoratori della filiera dell'auto, dei colossi dell'auto nel Midwest, a Detroit in particolare. I tre grandi colossi dell'auto sono coinvolti da questo sciopero dei lavoratori per il mancato rinnovo del contratto che vedremo a conseguenza e non solo negli Stati Uniti. Poi molte notizie di cronaca, una che riguarda anche la strage di Ustica, si è scoperto che esistono ancora sette documenti che sono secretati. Dunque cercheremo di capire questo che cosa significa e poi daremo l'addio a due grandi personaggi del mondo, dello spettacolo e dell'arte, che hanno piegato la cultura del XX secolo. Il primo è il pittore, scultore Botero e l'altro è forse uno dei più grandi parolieri italiani, migliacci, che ha davvero scritto dei capolavori della musica leggera del nostro paese. Intanto vi aspetto per i titoli tra una trentina di secondi. Sull'immigrazione arriva il primo segnale di solidarietà all'Italia, lanciarlo il presidente francese Macron, che dopo gli ultimi scontri diplomatici con il governo italiano, oggi invita tutta l'Unione Europea ad intervenire nella gestione dei flussi. La Lega rilancia dopo gli attacchi di Salvini, questa volta il ministro Calderoli ad alzare il tiro parlando di una regia dietro gli arrivi. La premier Malone intanto invita la presidente della commissione, von der Leyen, a visitare Lampedusa. Da giorni nel caos e sull'isola proseguono i trasferimenti dei profughi. Monito del presidente della Repubblica Mattarella, l'Assemblea di Confindustria è una prima assoluta per un capo dello Stato. Mattarella ha detto che non è il capitalismo di rapina quello a cui guarda la Costituzione e che la democrazia non può permettersi di cavalcare le paure con un chiaro richiamo all'emergenza immigrazione. Mentre il presidente degli industriali Bonomi ha ribadito che il salario minimo non risolve il problema da solo del lavoro povero. L'Eurogruppo torna a sferzare l'Italia sul MES. Le spiegazioni del ministro dell'economia Giorgetti non convincono il presidente Danaoe che chiede di fare ogni sforzo per arrivare alla ratifica del meccanismo di stabilità. Sottolineando peraltro che se l'Italia non procede non potrà beneficiarne neanche l'intera area dell'euro. Ancora nessuna certezza che la ratifica verrà discussa in Parlamento ai primi di novembre. Sull'Ucraina nuova provocazione del presidente russo Putin. Da Sochi dove ha incontrato il leader bielorusso Lukashenka. Putin ha detto che se Kiev vuole parlare con la Russia per fermare la guerra deve inviare un segnale che Mosca non ha ancora ricevuto. Giovedì 21 il presidente ucraino Zelensky sarà la casa bianca dal presidente Biden. Intanto l'esercito di Kiev riconquista un villaggio alle porte di Bakhmut. Il mondo della musica perde uno dei più grandi autori del nostro paese. Si è spento a 92 anni Franco Migliacci, padre di canzoni storiche come L'indimenticabile nel blu dipinto di Blu, scritto insieme a Domenico Modugno o c'era un ragazzo come me cantato da Gianni Morandi. Nella sua lunga carriera artistica fu paroliere di brani per Mina, Milva, Fred Bongusto, Rita Pavone e Pati Bravo. Buonasera, ben trovati. Allora si è riaperta o meglio si è rinfocolata la polemica sulla questione e la gestione dei flussi migratori nel nostro paese. Bisogna tenere presente un punto per capire la situazione. L'Italia è il primo paese d'ingresso dei migranti in tutta Europa. Soltanto nel 2023 sono arrivati oltre 120.000 persone nel nostro paese. Molte delle quali non si fermano da noi però e proseguono negli altri paesi europei. Dunque è evidente che c'è la necessità di affrontare questa questione a livello europeo. Ma è altrettanto evidente che lo si dice da anni e non lo si mette poi in pratica. Tanto che proprio in questi giorni l'Austria da una parte e la Francia dall'altra hanno rafforzato i confini proprio per evitare l'aumento del flusso dei migranti nel loro paese. Invece oggi il presidente francese Macron ha cambiato in qualche modo la sua tattica. E' responsabilità dell'Unione Europea tutta essere al fianco dell'Italia. Non lasciarla sola, dichiara il presidente francese che pure non più tardi di 48 ore fa aveva annunciato la chiusura delle frontiere per evitare i cosiddetti movimenti secondari. Passaggi di migranti dal paese di prima accoglienza, l'Italia, verso il resto d'Europa. Come dire una cosa è il rispetto del patto di Dublino, un'altra i doveri di solidarietà. Un'ambivalenza spiegabile in parte con la visita in Francia di Papa Francesco, in parte con l'escalation in Niger dove poche ore dopo lo stesso Macron rivela che l'ambasciatore francese è assediato in ambasciata. Ossigeno comunque l'appello alla solidarietà e anche il colloquio fra il ministro dell'Interno Piantedosi e l'omologo francese Darmanet per Giorgia Meloni, assediata e sfidata anche oggi dalla Lega che non perde occasione per attaccare l'Europa, rimarcando l'emergenza e sottintendendo l'inadeguatezza italiana. Oggi è la volta del ministro per gli affari regionali Calderoli che parla di una vera invasione. Senza un'azione dell'Europa l'Italia dovrà fare tutto da sola. Quando Matteo Salvini era ministro degli interni tutto ciò non si verificava. A buon intenditor poche parole scrive in un post su Facebook a poche ore dall'arrivo di Marine Le Pen a Pontida. Pensiamoci bene prima che accada una catastrofe alza il tiro dopo l'esplicita dichiarazione che Meloni sbaglia e poco incisiva fatta dal vice segretario Crippa che sia un membro del governo a parlare così è il segno che la Lega vuole lo scontro sfruttando il solco che contemporaneamente allo spiraglio francese la Germania invece ha approfondito. Abbiamo voluto dare un segnale all'Italia ha detto una portavoce del governo tedesco contro le violazioni del patto di Dublino. Alla linea Salvini si contrappone il segretario forzista nonché ministro degli esteri Tajani andrò a Berlino e a Parigi ha detto proponendo di riprendere la vecchia operazione Sofia prevedeva anche fermezza precisa e intanto telefona la ministra degli esteri francese Colonna Meloni alla presidente del Parlamento Europeo Mezzola e invita Ursula von der Leyen ad andare a Lampedusa stretta fra Tajani e Salvini numeri record degli sbarchi, Scholz e Macron Meloni falleva sui buoni rapporti con la presidente della Commissione Europea che punta alla rielezione ma anche con il bilancio negativo del Consiglio Europeo di fine giugno sui migranti il mancato accordo sulla solidarietà obbligatoria per i veti ungheresi e polacchi nonostante il suo tentativo di mediazione e guardando avanti con alcune importanti sfide elettorali che arrivano prima ancora delle europee elezioni in Polonia, regionali in Germania, politica anticipata in Olanda dove il premier Rutte è caduto proprio per una disputa sull'immigrazione Evidente che c'entra anche la politica e c'entrano molto le elezioni non a caso il capo di raccorpamento nazionale francese Bardellà ha chiesto addirittura a Macron di indire un referendum proprio sul tema della migrazione un tema molto caldo, molto forte che è stato peraltro aggravato anche dalle condizioni meteo degli ultimi giorni perché il passaggio di quel tifone che ha colpito la Grecia e la Libia ha bloccato le partenze dal Nord Africa verso il nostro paese che si sono accumulate negli ultimi giorni la situazione a Lampedusa è questa Ci sono ancora tanti bambini nell'hot spot di Lampedusa alcuni sono molto piccoli dovrebbero essere loro ad avere la precedenza nei trasferimenti che in queste ore continuano a ritmo serrato i numeri delle presenze sull'isola siciliana stanno lentamente diminuendo rispetto ai giorni scorsi quando si è raggiunto il picco massimo di 7.000 migranti dopo le partenze di oggi circa 2.000 a Lampedusa dovrebbero rimanere circa 2.000 profughi anche se gli sbarchi non si sono affatto fermati questa motovedetta della guardia costiera ha fatto sbarcare quelli intercettati a largo ma molti arrivano alla costa direttamente a bordo di piccoli barchini poi per tutti la lunga trafila fino a lasciare l'isola tutti in fila sotto il sole prima di essere imbarcati non senza qualche problema di ordine pubblico così come non semplice resta la gestione di chi continua a sostare a Lampedusa queste sono le immagini girate dagli stessi migranti dentro l'hot spot ma da fuori dalla strada dell'isola arrivano altre immagini della generosa accoglienza degli abitanti del posto dei turisti, balli e canti tutti insieme una parentesi in queste difficilissime giornate dai numeri impressionanti solo negli ultimi 4 giorni sono sbarcati a Lampedusa 11.400 migranti secondo i dati del Viminale dall'inizio dell'anno ad oggi gli sbarchi sono raddoppiati 127.000 le persone arrivate in Italia il 92% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sul nostro territorio oggi hanno trovato accoglienza più di 141.000 persone la maggior parte si trova nei centri di accoglienza gli altri nei centri SAI solo 5.000 quelli che sono negli hot spot la regione che ha messo a disposizione più posti è ancora la Lombardia poi Sicilia, Emilia Romagna, Piemonte e Lazio e tra i vari migranti che vengono trasferiti in queste ore da Porto Empedocle e da Lampedusa c'era anche un gruppo partito ieri sera proprio da Porto Empedocle su disposizione della prefettura di Agrigento erano diretti verso un centro di accoglienza in Piemonte purtroppo c'è stato un incidente stradale l'autobus su cui viaggiavano si è scontrato con un tir mentre percorreva l'autostrada nei pressi di Fiano Romano l'impatto è stato molto violento i due autisti dell'autobus sono morti altri 25 migranti sono rimasti feriti sono ricoverati in alcuni ospedali di Roma nessuno è in pericolo di vita le cause di questo incidente sono però ancora da accertare vi dicevo che le altre questioni su cui è impegnato il governo in questi giorni sono veramente strettamente economiche una di queste è la questione del salario minimo oggi c'è stata l'assemblea di Confindustria il presidente Bonomi è tornato a ribadire la posizione dell'Unione degli Industriali su questo istituto sull'istituto del salario minimo ma la novità vera di oggi è che all'assemblea è intervenuto ed è una prima assoluta anche il capo dello Stato Sergio Mattarella con parole davvero molto dure per la prima volta Mattarella accetta l'invito a parlare davanti all'assemblea degli industriali e a loro rivolge un discorso altissimo ricordando che democrazia ed economia libera sono due facce della stessa medaglia ma senza cadere nel capitalismo di rapina dice proprio così il capo dello Stato davanti al presidente uscente Carlo Bonomi il suo mandato scade tra nove mesi ma potrebbe chiedere una proroga in ogni caso la corsa alla successione è già cominciata e questa è stata la sua ultima assemblea annuale Mattarella cita la Costituzione gli articoli che tutelano il lavoro quelli sulle donne lavoratrici ricorda tutti le regole del gioco e che la ricchezza deve essere diffusa infine si guadagna la standing ovation con una conclusione che rappresenta più di un monito sapere di avere il mondo dell'impresa impegnato con convinzione e con capacità per il progresso dell'Italia è motivo di conforto e di grande apprezzamento auguri perché le aziende sono al centro di un sistema di valori non solo economici e perché le fabbriche i luoghi di lavoro sono centri di democrazia di studio di libertà Bonomi ha appena finito di dire che loro gli industriali hanno ben chiaro che il salario minimo sponsorizzato da PD e 5 Stelle non basta si dice che siano 3 milioni i lavoratori al di sotto di questo salario ma dove hanno tirato fuori questo numero serve un salario giusto dice Bonomi appellandosi alla politica e chiedendo unità e l'abbandono della logica divisiva Mattarella coglie il volo e affonda troppi giovani cercano lavoro all'estero perché qui da noi sono pagati poco sicurezza coscienza rispetto delle regole economia di mercato fascismo e comunismo sono contro questa logica ma con dei paletti precisi con delle regole per la crescita la formazione l'innovazione la libertà perché sarebbe incomprensibile che le imprese non si curassero della salute dei loro dipendenti o di eventuali danni all'ambiente la democrazia non può permettersi di cavalcare le paure guai ad esasperare gli stati d'animo o le ansie della gente non parla mai di immigrazione il presidente ma è evidente il richiamo alla politica e alla tentazione di trasformare questa vicenda epocale in scontro politico magari con un occhio alle elezioni del prossimo anno stringe mani saluta tutti lascia la sala dei duemila rappresentanti di Confindustria domani è un altro giorno altro bagno di folla lo aspetta l'Italia del volley con la finale degli europei oggi c'è un altro presidente che è intervenuto su una questione fondamentale quella della ratifica del MES e ha in qualche modo sferzato l'Italia il presidente dell'Eurogruppo abbiamo parlato della ratifica del MES così il nostro collega Giancarlo Giorgetti ha potuto informarci sugli ultimi sviluppi dell'estate e sui prossimi passi del processo parlamentare in Italia Pascal Donahue presidente dell'Eurogruppo non si nasconde certo dietro frasi di circostanza e fa nomi e cognomi anzi un nome e cognome quello di Giancarlo Giorgetti rappresentante dell'unico paese dell'Euro che il trattato non lo ha ancora ratificato 19 paesi in parole povere stanno aspettando noi se l'Italia non procede con la ratifica aggiunge ancora Donahue per amor di chiarezza non solo l'Italia non potrà beneficiarne ma non potrà farlo neanche l'intera area dell'Euro confido che le autorità italiane continueranno a fare ogni sforzo per finalizzare questo importante impegno al tavolo dei ministri delle finanze dei 20 paesi dell'Euro ci sono stati è ovvio scambi di vedute su tutti i temi di attualità della moneta unica dall'ennesimo rialzo dei tassi deciso dalla BCE ieri ho spiegato e nessuno l'ha contestato dice Christine Lagarde alle prospettive ancora embrionali di un accordo sulla modifica del patto di stabilità ma il tema più urgente senza alcun dubbio resta quello del meccanismo europeo di stabilità senza quello senza il suo backstop cioè la garanzia per il fondo costituito per intervenire a sostegno di banche in crisi ovviamente la posizione finanziaria dell'area euro è più debole e i rischi più grandi e lo ribadisce Pierre Gramegna il direttore esecutivo del MES se il trattato riformato non entra in vigore purtroppo la rete di sicurezza del backstop che è la principale funzione del nuovo trattato non sarà in vigore il tempo a disposizione per la ratifica non è molto dovrebbe essere fatta entro il 31 dicembre ma all'inizio di luglio la Camera ha approvato una sospensione del procedimento di ratifica rinviando tutto ai primi di novembre rospo difficile da digerire per un governo che avrebbe sì una maggioranza amplissima in Parlamento ma dove la Lega e lo stesso partito della Premier avevano fatto della lotta al MES una battaglia identitaria così oggi le opposizioni martellano il governo imbarazzante dice il PD la mancata ratifica è la prova approvata dell'incapacità della maggioranza sovranista di liberarsi della propaganda anti-euro e anti-UE che porta molti partner alla diffidenza per più Europa è evidente che la situazione economica e finanziaria europea è influenzata anche da quanto sta accadendo in Ucraina dalla guerra in Ucraina dalla quale oggi arriva una notizia che va presa con le pinze ma va letta dal punto di vista diplomatico una dichiarazione del presidente russo Putin lo ha detto Putin a soci accanto al presidente bielorusso Lukashenko lo ha ripetuto la prova a Mosca la Russia è pronta a rispondere a tutte le proposte serie ma la palla dei negoziati resta nel campo dell'Ucraina il ministro degli esteri si è anche detto disponibile stavolta ad incontrare l'inviato del Papa Cardinal Zuppi che dovrebbe tornare a Mosca dove fu ignorato a giugno aperture non nuove da parte di Mosca le cui condizioni per trattare però sono le stesse le regioni annesse restano parte della federazione parole che arrivano dopo le ultime umiliazioni sul campo oggi gli ucraini hanno ripreso il controllo delle macerie di Andriyevka a sud di Bakhmut e della vicina Kleschyevka dove sono entrati con i volontari bielorussi e dove hanno sconfitto la 72esima brigata di fanteria di Mosca inoltre aumentano le isole della sponda sinistra del Dnipro in mano agli incursori della marina ucraina non bene per l'immagine russa dopo l'attacco al porto di Sebastopoli il danneggiamento della nave Samoum e la distruzione di un'importante base radar e di mezzi di contraerea in Crimea per un danno da oltre 1 miliardo e 200 milioni di dollari un duro colpo anche per le casse di Mosca che devono fare i conti con le sanzioni e l'inflazione in crescita che ha portato la governatrice della banca centrale Nabiullina ad alzare al 14% i tassi di interesse inoltre oggi il capo della commissione difesa della Duma Kartapolov ha annunciato che non ci sarà una nuova mobilitazione e che i soldati non torneranno a casa fino alla fine della guerra l'ipotesi era stata ventilata ma probabilmente avrebbe generato malcontento in vista delle elezioni del prossimo anno servono comunque rinforzi il ministero della difesa ieri ha allargato le maglie dei malati che possono partire volontari oltre ai detenuti anche chi ha problemi cardiaci perdita d'udito e schizofrenia potrà ruolarsi e mentre il Cremlino starebbe trattando col generale Haftar per un porto in Libia in Algeria è riapparso oggi Sergei Surovichin era sparito dal 23 giugno giorno della marcia su Mosca dei mercenari Wagner l'uomo che ha ideato le linee di fortificazione delle regioni meridionali occupate dopo i sospetti di tradimento potrebbe ereditare proprio la potente guida del gruppo in Africa Ma dobbiamo anche parlare sempre dall'estero di cosa sta accadendo nel Midwest industriale siamo negli Stati Uniti a Detroit in particolare perché stanno scioperando gli operai dei tre grandi colossi delle auto americane è davvero un caso senza precedenti mai in 90 anni di storia c'era stata una mobilitazione contemporanea così forte Settimane non semplici le ultime di Joe Biden a tenere banco ora anche i problemi sindacali nel comparto dell'automobile con uno scontro in corso tra il sindacato lavoratori dell'auto in rappresentanza di 13.000 operai e le tre regine di Detroit ovvero Ford General Motors e Stellantis nessuno vuole questo sciopero dice Joe Biden ma gli operai del settore guadagnano poco mentre le grandi compagnie hanno incassato profitti record che non sono stati divisi equamente gli operai chiedono un aumento di stipendio di un corposo 30% da spalmare in tre anni tutto per riconquistare quel potere d'acquisto eroso dall'inflazione come è accaduto da noi in Italia la troica non va oltre un 18% massimo 20% di aumento Biden allora ha deciso l'invio a Detroit della segretaria al lavoro Julie Sue e del consigliere per gli affari speciali Jean Spurling una vicenda questa comunque rara per gli americani nei ruolini di marcia di queste settimane complicate per Biden ci sono anche altre questioni c'è il tentativo di impeachment avanzato dai repubblicani per l'accusa mai provata di aver tratto profitti dagli affari con l'Ucraina e la Cina di suo figlio Hunter lo stesso Hunter che andrà a processo in piena campagna elettorale prossima per possesso illegale di una pistola acquistata senza dichiarare il suo consumo di droga sull'impeachment l'amministrazione snobba quanto sta accadendo a Washington e accusa i repubblicani di usarlo nel tentativo di tradire gli accordi bipartisan sul budget la nostra manovra finanziaria e di voler fare tagli sanguinosi all'assistenza sociale anche a costo dicono dalla Casa Bianca di fermare l'attività governativa e portare di nuovo il paese sull'orlo del fallimento ancora dall'estero vi devo dire che c'è un aggiornamento sulla tragedia che ha colpito la Libia a Derna secondo gli ultimi dati della croce rossa della mezzaluna rossa sarebbero almeno 11.300 i morti accertati e altre 10.000 persone risultano ancora disperse a Derna si è recato oggi il capo della nostra protezione civile Fabrizio Curcio che ha parlato di un impatto devastante uno dei problemi più gravi da affrontare adesso è quello dell'acqua potabile molti dei pozzi della città infatti non sono più utilizzabili abbiamo notizie italiane perché c'è una novità un dettaglio nuovo che riguarda il mistero della strage di Ustica esistono ancora documenti sulla strage di Ustica non declassificati al ministero della difesa lo conferma lo stesso ministero dopo le rivelazioni rilasciate oggi a Repubblica da parte di Giuseppe Dioguardi manesciallo dell'aeronautica in pensione l'ex militare 62 anni che ha lavorato nelle segreterie particolari di quattro ministri della difesa ha parlato di una doppia relazione del sismi sui fatti accaduti la sera del 27 giugno 1980 nei cieli di Ustica una versione di comodo e una mai resa pubblica che ricostruiva quanto realmente accaduto sulla base degli elementi a disposizione dell'intelligence va cercata negli archivi della presidenza del consiglio in quelli del ministero della difesa ha suggerito il militare a stretto giro è arrivata la risposta del ministero tutti i documenti della difesa sulla strage di Ustica e scritto nella nota ministeriale sono stati declassificati e versati all'archivio di stato ad eccezione di 18 11 di questi sono stati consegnati alla procura di Roma il 28 settembre 2020 per l'indagine sull'abbattimento del 19 che provocò la morte di 81 passeggeri e non sono stati ancora restituiti altri 7 invece sono tuttora coperti dal massimo livello di segretezza e si attende il nulla ossa degli enti originatori gli enti cioè che produssero quei documenti ai quali a partire dal 2015 è stata più volte reiterata la richiesta per ottenere l'autorizzazione alla declassificazione come ovvio si mantiene il riservo su quali siano gli enti ma spiegano al ministero della difesa si tratta di documenti già visionati dai magistrati che non hanno ritenuto fino a questo momento di acquisirli ancora la cronaca perché purtroppo è morto il giovane ragazzo di 23 anni che è stato aggredito due giorni fa mercoledì scorso in Darsena a Milano era chiaro dall'inizio che le sue condizioni fossero gravissime ma solo qualche ora fa la speranza ha ceduto il posto alla realtà è morto al policlinico di Milano Yuri Urizio il 23enne aggredito sui navigli nella notte tra martedì e mercoledì da un 28enne di origine tunisina Cuba Bilal che resta in carcere a San Vittore era stato fermato con l'accusa di tentato omicidio e ora dopo la convalida del GIP il capo di imputazione è diventato omicidio un'aggressione violenta così la descrive il giudice nell'ordinanza per oltre 7 minuti tra le 3.52 e le 3.59 Bilal avrebbe soffocato con una stretta modo di tenaglia al collo Yuri Urizio senza che lui potesse reagire se non con un movimento delle gambe sempre più debole a supportare questo racconto scrive sempre il giudice un testimone e le immagini delle telecamere della zona il tunisino dopo l'aggressione aveva fornito una versione ai poliziotti che ha ribadito anche nell'interrogatorio davanti al GIP e cioè quella di essere intervenuto per difendere una ragazza che al momento non è ancora stata rintracciata dalle presunte molestie di Urizio sempre secondo Bilal la vittima avrebbe strappato i soldi dalle mani della donna conosciuta in zona perché chiede le lemosine in cambio di cioccolata Urizio era originario del Comasco faceva il cameriere e in passato anche il cuoco viveva nella zona dell'aggressione con la madre è una tragedia di cui non possiamo che essere addolorati e consapevoli del fatto che dobbiamo fare di più ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala oggi ve lo dicevo nell'anteprima è morto a 92 anni Franco Migliacci è stato paroliere talent scout produttore discografico insomma senza girarci intorno forse uno dei parolieri italiani più famosi che ha firmato dei capolavori della storia della musica leggera per iniziare a descrivere l'importanza di Franco Migliacci scomparso oggi all'età di 92 anni nella musica e nella cultura italiana bisogna partire da un celebre dipinto di Chagall Le Corruche d'Anna Nuit da quelle tonalità di blu che fanno da sfondo a un volo a una danza onirica sì proprio a un sogno che così uno pensa non torni mai più nasce così il testo di volare o nel blu dipinto di blu che con la magistrale interpretazione di Domenico Mudugno nel 1958 da Sanremo apriva le braccia come ali in volo verso il mondo metafora di quell'Italia che si apriva alla modernità grazie al boom economico in realtà Migliacci e Modugno cambiarono diverse volte la versione sulla genesi di un capolavoro ancora oggi canticchiato da grandi e piccoli e oggetto di numerose cover fatti mandare dalla mamma a prendere il latte dopo quello con Modugno il suo talizio più forte è stato con Gianni Morandi per il quale ha scritto testi e prodotto tra le altre fatti mandare dalla mamma andavo a cento all'ora in ginocchio da te canzonette venivano definite all'epoca ma che in realtà erano piccoli capolavori di arte popolare dove l'ania musicale era di un giovane arrangiatore di nome Ennio Morricone che arrotondava così per non soffrire la fame e che firmò le musiche dei più importanti famosi brani di quell'epoca d'oro per la musica italiana per Morandi Migliacci ha scritto poi c'era un ragazzo un mondo d'amore se perdo anche te ma anche la canzone che negli anni 80 fece uscire Morandi da un periodo scuro uno su mille un titolo rimasto nel costume come esempio di una storia di ascesa caduta e redenzione piena di riferimenti autobiografici sono profondamente commosso dalla scomparsa di Franco ha cambiato completamente la mia vita e la mia carriera ha scritto oggi lo stesso Gianni Morandi ma la firma di Franco Migliacci ci ritroviamo anche in classici come Tintarella di Luna Una rotonda sul mare Come te non c'è nessuno La bambola Che sarà Ma che freddo fa Il cuore è uno zingaro ancora di Edoardo De Crescenzo un canzoniere ricchissimo ed eclettivo che copre oltre 50 anni di storia e che comprende anche Tappartengo il classico della cultura camp italiana cantato da Ambra ti giuro amore è un amore eterno se non è amore viene dal inferno ma anche delle sigle di alcuni dei cartoni animati che a cavallo tra gli anni 70 e 80 hanno formato due generazioni come Aridi e Mazinga su tutte con Franco Migliacci se ne va una figura cardine della musica italiana capace di adiguarsi ai cambiamenti radicali e che hanno accompagnato l'idea stessa di canzone italiana volare volare cantare 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 botero è stato un talento è stato un talento precocissimo a 16 anni già disegnava le illustrazioni per i supplementi del colombiano che appunto è il giornale più importante della sua città la sua prima mostra fu del 48 si fece conoscere poi per in tutto il mondo come vedete dalle immagini che sicuramente conoscerete per le sue opere che raffiguravano soggetti dalle forme piuttosto voluminose diceva che un artista è attratto da alcune forme senza sapere bene perché adotti una posizione intuitivamente è solo dopo cerchi di razionalizzarla oppure di giustificarla è morto all'età di 91 anni dopo di noi ospiti questa sera di 8 e mezzo sono Luca Iosi Elisabetta Piccolotti Lucio Caracciolo e Italo Bocchino e poi a seguire a propaganda ci saranno Marco Paolini Chiara Valerio Fabrizio Bosso Valerio Aprea Vincenzo Pirrotta Francesca Schianchi Costanza Eroescher Filippo Ceccarelli Betta Ferrari e Paolo Celata ci fermiamo a qualche istante eccoci allora un breve aggiornamento intanto devo dirvi che la Meloni ha distribuito attraverso Palazzo Chigi un video in cui ha spiegato che nell'immediato il governo italiano intende adottare misure straordinarie per far fronte al numero degli sbarchi che abbiamo visto sulle nostre coste in particolare a Lampedusa e nella sostanza Meloni ha chiesto una missione europea un totale cambio di paradigma dice la Meloni una missione europea anche navale per fermare a Monte dice la Meloni i trafficanti di esseri umani e l'immigrazione illegale di massa e poi come sempre devo darvi l'aggiornamento sulle borse sono tutte sulla parità più o meno le borse europee in questo momento come vedete l'indice Futsi-Mib segna più 0,08 mentre gli indici americani sono negativi il Dow Jones in questo momento è a meno 0,80 e il Nasdaq addirittura a meno 1,69 dopo di noi come sempre Gruber e poi Bianchi grazie per l'attenzione ci vediamo domani buonasera grazie a tutti grazie a tutti